Ricordo benissimo quando Giacomo mi chiamò ormai un po' di anni fa dicendo «Mai Mauri, guarda, ho quest'idea, anzi in realtà non ci conoscevamo, per cui mi disse «Maurizzo, ho quest'idea di un cammino sociale in Val Borbera». Io tra l'altro ero estremamente convinto e determinato, io insomma rimasi stupito, piacevolmente stupito, perché l'idea effettivamente era molto forte, era molto interessante. Un cammino sociale, un cammino che punta sia all'escursionismo ma anche alla conoscenza, alla conoscenza profonda di un territorio. Credo che conoscere i territori e portare di conseguenza anche dei benefici economici ma anche culturali attraverso un cammino sia una strada bellissima, straordinaria. straordinaria perché i cammini in generale sono portatori di un'economia magari non particolarmente, come si può dire, appariscente ma duratura, un'economia che tende anche addirittura a plasmare il territorio, un'economia che si basa su un turismo sostenibile, replicabile, non impattante. Questo è molto importante. E' molto importante perché la Val Borbera è un gioiello, ha un patrimonio naturalistico davvero straordinario. Se siamo furbi, è cosa che io mi auguro, dovremo appunto tentare tutte le carte per promuoverlo, valorizzarlo, tutelarlo. Il cammino sociale è un ottimo strumento per fare tutte queste cose. Per cui io sono estremamente legato a questo progetto, lo sostengo. e mi ricordo la prima volta che ne parlamo proprio al Bosca Drà, il festival che facciamo qui a Cascina Barban, tutti insieme, ormai nel lontano, forse 2017-2016. La cosa commovente è che da un'idea, da una chiacchierata, è diventato un progetto vero e proprio, un cammino percorribile, di rara bellezza, che appunto vi consiglio fortemente. Evviva!